Buon pomeriggio dalla redazione delle TV della mobilità. Partiti i lavori in via Collatina, si tratta di una cantiere sulla rete del gas tra via Capranesi e via Semeghini. Tratto di strada che è chiuso al traffico con la deviazione delle linee bus 075, 314, 541 e 543. Cantiere notturno invece sulla pontina, lavori di pavimentazione a cura di ANAS tra Aprilia e l'Eur lungo la carreggiata in direzione Roma. I lavori sono in corso dalle 21 alle 6. In base agli spostamenti del cantiere sono previste chiusure o restringimenti della strada. I lavori realizzati con uno stanziamento di 5 milioni di euro vengono sospesi nelle fine settimana ma in caso di necessità anche nelle giornate di traffico intenso. Per il momento è tutto, il Tg della mobilità torna alle 17.